Oltre 500.000 studenti sui banchi in Toscana nell'anno scolastico 2019-2020 e la scuola resta una voce importante nella scala di priorità della regione toscana che anche quest'anno ha predisposto provvedimenti per garantire il diritto all'istruzione, aiutare le famiglie degli studenti con reddito più basso e legare sempre più strettamente scuola e mondo del lavoro. Come si prospetta il nuovo anno scolastico? La scuola ha problemi vecchi, quest'anno però qualche problema è stato risolto per l'immissione di tanti nuovi dirigenti a scuola perché c'erano delle zone veramente sguarnite di presidi. Rimane il problema di tanti insegnanti che ancora devono essere immessi in ruolo, quindi ci sono ancora tanti insegnanti precari soprattutto sul sostegno ma questi sono problemi a cui non possiamo dare risposte noi come regione, quindi facciamo i migliori auguri al nuovo ministro perché magari dia un impulso positivo anche in questo senso, però le nostre scuole toscane sono scuole di eccellenza quindi sicuramente un augurio di buon lavoro a tutti. Noi come regione toscana come di consueto investiamo tanto nella scuola e cerchiamo quindi di sostenere tutto il sistema con azioni che sono a livello regionale per aiutare le famiglie e le scuole a lavorare meglio insieme. Sul fronte del pacchetto scuola per gli aiuti alle famiglie con ISEE inferiore ai 15.748 euro la Toscana ha aumentato i finanziamenti complessivi mettendo a disposizione 3 milioni di euro destinati a sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica e all'acquisto di libri scolastici materiale didattico di vario tipo e altri servizi come i trasporti. Il contributo per ciascuno studente è fissato a 300 euro che possono salire a 5 mila euro per chi abita al Giglio o a Capraia o nelle isole con maggiori disagi. Quest'anno l'intervento per aiutare le famiglie nell'acquisto dei libri di testo nel sostenere le spese per la scuola anche per i trasporti quindi parlo di alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado quindi scuole medie e scuole superiori. Ecco quest'anno era un impegno che ci eravamo presi, abbiamo già pagato i comuni quindi le famiglie potranno avere il contributo prima dell'inizio dell'anno scolastico quindi devo ringraziare tutti gli uffici della regione perché insomma in poco tempo hanno veramente rivoluzionato tutte le procedure e quest'anno siamo riusciti quindi riusciremo a intanto soddisfare tutte le domande di tutte le famiglie che hanno appunto presentato domanda con un reddito inferiore ai 15.700 euro quindi su tutto il territorio regionale e daremo ad ogni studente per ogni studente un contributo di 300 euro prima dell'inizio dell'anno scolastico. Il percorso di crescita inizia già dalla prima infanzia per questo la Toscana continua a investire sulla fascia di età 06 sui nidi in quattro anni la regione ha investito quasi 50 milioni di euro a cui si aggiungono i contributi per la scuola materna. Crediamo che dei servizi che siano accessibili e anche di qualità servizi per la prima infanzia siano fondamentali per tutto il percorso educativo dei bambini e dei ragazzi e che siano anche un grande aiuto per in qualche modo conciliare le esigenze del lavoro e della vita familiare per i genitori ma anche appunto una grande occasione di crescita e di apprendimento permanente che inizia proprio dai primi mesi di età della vita del bambino. Quindi siamo fra le regioni più virtuose anche in questo senso perché ormai quasi oltre il 37% dei bambini fra gli 0 e i 3 anni frequentano un servizio, frequentano il nido quindi questa è una percentuale che ci pone già oltre i limiti europei e quindi insomma su questo la Toscana è un'eccellenza. E poi ci sono i provvedimenti per gli studenti disabili per i quali le risorse regionali sono state ulteriormente incrementate per garantire servizi sempre più capillari. Abbiamo quasi raddoppiato le risorse regionali destinate ai trasporti degli studenti disabili e all'assistenza educativa quindi passando da un milione e mezzo ai due milioni e mezzo di quest'anno che andranno ad aggiungersi alle risorse statali proprio per poter partire anche qui in tempi rapidi quindi con l'inizio dell'anno scolastico e dare agli studenti con disabilità che ne abbiano diritto, che ne abbiano bisogno anche il supporto necessario sia per il trasporto naturalmente che per, qui parliamo di studenti delle scuole di secondo grado perché è questa la nostra competenza attraverso le province che per appunto l'assistenza specialistica che quindi affiancherà naturalmente l'insegnante di sostegno che invece è di competenza ministeriale. Uno dei capitoli centrali anche nel nuovo anno scolastico resta poi quello dell'alternanza scuola-lavoro su cui la Toscana da anni investe per aiutare le scuole a costruire progetti di qualità coerenti con l'indirizzo di studi sempre tenendo presenti le esigenze delle imprese e delle professioni sul territorio. Quali sono gli ultimi provvedimenti adottati? Secondo noi l'alternanza scuola-lavoro se ben fatta quindi se l'esperienza, se la progettazione, se il percorso un percorso di qualità rappresenta senz'altro un'opportunità, io direi un diritto per i ragazzi soprattutto per quelli che frequentano un istituto tecnico o professionale e quando noi li chiamiamo perché anche noi riceviamo i ragazzi in alternanza, quando anche i ragazzi fanno monitoraggi loro hanno proprio questa idea, cioè se l'alternanza è ben fatta loro sono entusiasti e dichiarano che veramente il poter mettere in pratica quello che apprendono nelle aule e il poter cominciare a conoscere, anche se per un periodo limitato, il mondo del lavoro per loro è un'esperienza molto molto importante. La Regione ha per questo deciso di integrare con risorse proprie quelle tagliate a livello statale in materia di alternanza scuola-lavoro per aiutare gli istituti tecnici e professionali che vogliono incrementare le ore destinate alle cosiddette competenze trasversali. In cosa consiste nel dettaglio il provvedimento? Noi andremo a ripristinare i finanziamenti che sono stati tolti a livello centrale per le scuole che faranno delle progettazioni con le imprese che richiedono un monte ore di almeno 400 quindi riportare almeno a 400 le ore di alternanza e se questa sarà un'esigenza e una progettazione della scuola i finanziamenti che in meno hanno quest'anno verranno reintegrati da Regione Toscana. L'obiettivo è quello di inserire l'alternanza nel curriculum scolastico dei ragazzi soprattutto per le scuole che hanno un forte collegamento con il mondo del lavoro anche perché sempre più spesso le imprese assumono sulla base dei periodi di learning on the job, di apprendimento sul campo ed è importante monitorare la qualità degli interventi per risolvere il disallineamento che ancora c'è tra i titoli che si conseguono a scuola e le richieste del mondo del lavoro e poi c'è da lavorare sull'orientamento. Bisogna evitare di scegliere la scuola sulla base di una gerarchia che non serve a nessuno tener conto di quelle che sono le attitudini e le inclinazioni dei ragazzi ma anche poi di cosa chiede, di cosa chiederà il mondo del lavoro in futuro quindi orientare bene per disperdere meno. La Toscana non a caso è la regione italiana che negli ultimi anni ha abbattuto in modo più consistente il tasso di dispersione scolastica e in cui è stata più efficace l'azione di contrasto al fenomeno dei ragazzi che non studiano e non lavorano in IT da qui la necessità di una stretta collaborazione tra livello regionale e livello nazionale cosa chiede la regione al governo? Chiediamo innanzitutto ascolto perché la regione è quella che ha sicuramente delle competenze solo concorrenti in materia di istruzione perché il livello centrale appunto per tutto quello che riguarda la selezione dei docenti, dei dirigenti scolastici, gli organici, naturalmente le competenze sono statali però noi conosciamo quelle che sono le situazioni dei territori quindi anche le peculiarità dei territori e con una collaborazione istituzionale seria e responsabile sicuramente si possono dare delle risposte importanti alle famiglie, alle scuole e soprattutto chiediamo a questo governo che la scuola, l'educazione e la formazione acquistino una centralità che in questo paese purtroppo manca da troppo tempo quindi noi come giunta regionale questa centralità l'abbiamo posta come nel DNA di questa legislatura chiediamo che faccia lo stesso anche a livello centrale chiediamo che faccia lo stesso anche a livello centrale